Tutto pronto per l'inizio della scuola, negli asili si controlla il Green Pass. Covid-21 casi a Pesaro, donna positiva in gravi condizioni dopo il parto. Partiti i lavori di bonifica nell'area dell'ex AMGA. Arriva venerdì e sabato la prima edizione del fumetto Opera Festival. Martedì 14 settembre, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Questa sera in apertura parliamo di scuola perché anche le studentesse e gli studenti marchigiani domani ritorneranno sui banchi. Prenderà infatti il via domani il nuovo anno scolastico con regole e misure di sicurezza nuove o confermate e alcuni servizi implementati come i 26 mezzi messi in campo nella provincia pesarese per il trasporto locale. Già partiti invece, come ben sapete, gli asili nido e le materne e con loro anche i controlli del Green Pass esteso ai genitori. Vediamo. Sta per essere tagliato il nastro di partenza del nuovo anno scolastico delle Marche. Il 15 settembre oltre 200.000 ragazze e ragazzi della regione torneranno in aula. La stessa aula che per diversi mesi è stata sostituita dalla didattica a distanza a causa del Covid. Per garantire il regolare avvio delle lezioni, l'ufficio scolastico regionale ha fatto sapere che nelle Marche sono stati assunti 1.622 docenti, un numero tre volte superiore rispetto a quello registrato nel 2020. L'avvio del nuovo ciclo scolastico segna anche il ritorno o l'introduzione di diverse misure di sicurezza, dalle mascherine in classe al certificato verde per il personale scolastico. Un altro banco di prova importante sarà quello affidato ai trasporti. Nelle regioni bianche o gialle la capienza a bordo dei mezzi pubblici locali è fissata all'80%. Durante il tavolo tecnico di coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano della provincia pesarese, è stato reso noto che con l'inizio della scuola saranno utilizzati 26 bus aggiuntivi rispetto al periodo pre-Covid, per un totale di 311 mezzi. Confermati anche i 18 nuovi stalli di sosta per scaglionare gli ingressi e la presenza di steward e controllori alle fermate. Ad aver già ripreso la propria attività da qualche giorno sono invece le scuole dell'infanzia. Dalla giornata di ieri, rispettando la normativa entrata in vigore a livello nazionale, anche nelle 26 sedi del territorio comunale pesarese, 13 nidi e 13 materne, l'accesso alle strutture educative è consentito unicamente con il Green Pass. Non solo il personale scolastico dunque, ma anche i genitori o gli accompagnatori dei bambini dovranno possedere ed esibire la certificazione verde per accedere agli spazi interni delle scuole. Nella prima giornata, i controlli svolti a campione, che una volta portata a termine la macchina organizzativa diventeranno giornalieri e capillari con attrezzature idonee, non hanno portato alla luce problematiche o assenze di certificati. Anche tra il personale delle scuole d'infanzia, la situazione è sotto controllo. Stiamo cercando di avere un colloquio con una docente in particolare, però tutto il personale, sia le educatrici che le insegnanti delle scuole dell'infanzia, che tutto il personale non docente, non abbiamo avuto particolari problematiche. L'8 di settembre abbiamo iniziato con i nidi, ieri abbiamo iniziato con l'inserimento dei bambini già frequentanti, e giovedì inizieranno i nuovi. E quindi con il Green Pass è stato un percorso non facile, perché all'inizio pensavamo, soprattutto per i genitori, che non ce ne fosse necessità, poi fra venerdì e sabato è arrivata questa nuova legge, per cui ci stiamo lentamente adeguando alla norma, per cui tutti i genitori sanno che se vogliono entrare dovranno avere il Green Pass. Non abbiamo avuto delle grandi obiezioni a tutt'oggi, per cui vedremo giovedì che cosa succederà. L'assessore Ceccarelli ha poi rivolto un augurio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti pronti da domani a tornare sui banchi di scuola. Io dico a tutti questi ragazzi che domani affronteranno il primo giorno di questo anno scolastico problematico, ma non privo di fiducia e di speranza, che troveranno nelle loro classi, fra i loro docenti, nelle istituzioni, una risposta positiva a quelle che sono le loro aspettative, le aspettative di socialità, di apprendimento. Un anno e mezzo quasi di allontanamento, di difficoltà per le loro lezioni, per la DAD, eccetera, hanno un po' frenato i loro entusiasmi. Questo non deve più accadere. Spero che questa esperienza di vita li abbia fortificati e non indeboliti. Parliamo ora di sanità con i consueti dati relativi al Covid-19 sul nostro territorio. Il bollettino del Servizio Sanità segnala che nelle ultime 24 ore, su 3.196 tamponi analizzati, sono 119 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche. Di questi, 21 sono stati riscontrati nella provincia di Pesarurbino. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre notificati tre nuovi decessi legati al Covid. Tutte e tre le vittime erano residenti nella provincia di Fermo. Continuiamo a parlare di Covid, legato però in questo caso al tema della gravidanza. Perché nella mattinata di ieri una trentenne in dolce attesa, residente nella provincia pesarese, non vaccinata e recentemente risultata positiva al virus, è dovuta ricorrere ad un cesareo d'urgenza, in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. L'equipe medica dell'ospedale Marche Nord, guidata dal dottor Cicoli, ha deciso quindi di procedere con il parto immediato. La neonata sta bene, mentre più gravi sono le condizioni della giovane mamma, che appena dopo aver dato la luce alla figlia, è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Non vaccinati positivi al Covid e ricoverati nell'ospedale pesarese, anche il compagno della donna e i genitori di questa. Cambiamo ora argomento e parliamo dell'area dell'ex-Amga, nella quale da ieri sono partiti i lavori di bonifica programmati dal Comune. Più di 20 specie verdi, 500 piante e oltre 200 alberi. Questi sono solo alcuni dati di questo progetto, che punta a trasformare l'area in un nuovo polmone verde cittadino. Una delle grandi questioni della città che finalmente si chiude. Con queste parole, il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla sostenibilità con delega all'ambiente, Aidi Morotti, hanno annunciato l'avvio degli interventi di bonifica per l'area dell'ex-Amga. L'iter dei lavori, che aveva ricevuto il via libera anche da un'ordinanza del Tar, vista l'assenza di modifiche alla destinazione urbanistica della zona, era stato annunciato qualche mese fa dall'amministrazione comunale. A causa della pandemia, però, il cronoprogramma aveva subito modifiche e slittamenti, ritardi che sono terminati nella giornata di ieri, quando l'ingresso dei camion nel segmento di via Morosini ha ufficialmente dato il via alle operazioni. Obiettivo degli interventi è la creazione di un nuovo polmone verde cittadino, con più di 20 specie verdi, 500 piante, oltre 200 alberi e un laghetto, realizzato con le acque della falda purificate, che servirà per il sostentamento del verde. Era un intervento che il quartiere ci chiedeva da tempo, la cittadinanza ci chiedeva da tempo, l'abbiamo promesso, ce lo siamo presi come impegno, abbiamo cercato al netto dei ritardi dovuti al Covid, abbiamo cercato di essere il più veloci possibili in quest'ultima fase. Il progetto è approvato, è tutto pronto e quindi stiamo partendo adesso con la bonifica. Come avete visto, si sta impiantando il cantiere, i primi lavori saranno i lavori edili e chiaramente l'ultima parte sarà quella dedicata alla piantumazione dei vegetali e delle piante perché hanno un tempo loro in cui essere messe a dimora. A fine lavori che cosa ospiterà questa zona, quest'area? Per ora noi stiamo procedendo alla bonifica, per cui tutte le piante che sono messe a dimora hanno e avranno una loro funzione specifica nell'assorbire gli inquinanti del terreno, per cui per ora lasciamo lavorare le piante e poi vedremo. Per la fine di maggio dovremo essere alla fine dei lavori, poi ci saranno i collaudi, se non succede nessun piccolo imprevisto dovuto magari ai lavori stessi e a cosa troveremo una volta che verrà scoperchiato il telo che vedete qui dietro, però insomma entro maggio dovremo riuscire a essere alla fine e poi dopo a cominciare tutte le procedure che servono per avere i collaudi necessari. Questi lavori chiaramente erano nell'intenzione del Comune da tanto tempo e ovviamente i residenti della zona e del quartiere hanno chiesto diversi incontri perché avevano necessità anche come cittadini di sentirsi un po' rassicurati su quella che era la volontà del Comune di intervenire su quest'area che lo richiedeva da tempo, per cui abbiamo avuto diversi contatti, abbiamo cercato di rendere partecipe il Consiglio di Quartiere quanto più possibile per arrivare a questo risultato tenendo informato il più possibile le persone che sono qui residenti. A Cartoceto e Monbaroccio i briganti diventano protagonisti del festival Marche Storie. Dal 16 al 18 settembre una serie di appuntamenti tra verità e leggenda incentrati sulle scorribande della Banda Grossi durante gli anni dell'unificazione d'Italia. Vediamo allora il servizio di Simone Celli. Due frazioni, due comuni, uniti sotto il segno dei briganti. Mentre l'Italia si stava trasformando in un unico grande stato, tra Ripalta e Montegiano la Banda di Terenzio Grossi si mostrava decisamente contrariata, mettendo in atto rapine, omicidi e insurrezioni armate. È attorno a queste vicende e alle tante leggende che popolano certi meravigliosi luoghi che si sviluppano le tante narrazioni di ma che storia quella della Banda Grossi. Dal 16 al 18 settembre andranno infatti in scena talk teatrali e concerti bandistici. E poi aperitivi tematici, esperienze per gli amanti del trekking, presentazioni di libri, anche a fumetti e incontri nelle scuole. Tutto questo grazie alla sinergia tra il comune di Monbaroccio e quello di Cartoceto, con il supporto delle rispettive proloco, nell'ambito del festival voluto dalla regione e che prende il nome di Marche Storie, che vanta anche la collaborazione di Amat e della fondazione Marche Cultura. Avremo un evento principale legato alla Banda Grossi, che è il punto del 3 d'union tra le due vallate, Montegiano e Ripalta, e che a questa sarà correlato un percorso di eventi secondari, che saranno per Monbaroccio legati alla figura di Guido Baldo e alle stelle. Questo perché? Perché la Banda Grossi, che nelle notti di scorazzamento tra le due realtà seguiva l'andamento delle stelle per i propri percorsi, entra in un percorso scientifico e culturale legato alla mitologia di Guido Baldo e del mondo. L'evento principale si svolgerà a Montegiano, accanto alla chiesa, il giovedì e il venerdì, mentre si chiuderà l'evento principale a Cartoceto il sabato. A questo saranno correlati eventi secondari, che si svolgeranno a Monbaroccio, quindi nella figura di Guido Baldo e tutta la mitologia della cultura e le stelle, il giovedì e il sabato. Un evento principale, incentrato su quello che dicevo prima, cioè queste scorribande, questi aneddoti, queste storie e tradizioni sulla Banda Grossi e poi tanti altri appuntamenti dall'arte alla cultura, alla musica, all'enogastronomia, che è propria e caratterizza in maniera eccellente questo territorio, nelle ulteriori giornate, sempre all'interno del tre giorni, 16, 17 e 18, che per l'appunto caratterizzeranno e impreziosiranno ulteriormente questa iniziativa. L'ingresso agli eventi è gratuito, ma va prenotato su eventbrite.it. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, perché una vera ripartenza è già possibile. Torniamo a relazionare i due comuni, torniamo a relazionare le due frazioni che sono i nostri due gioielli in questo corso protagoniste, quali Ripalta, quali Montegiano. Queste due realtà, queste due associazioni, queste quattro associazioni che insieme condividono un percorso, ci tornano a cominciare a far sperare, quindi a tornare a rivedersi insieme, ma anche a valorizzare dei percorsi che, grazie a questo circuito che si è creato, innescano un percorso successivo che, grazie a Cartoceto, potremo portare avanti, quali la valorizzazione turistica ed enogastronomica di queste realtà. È una grande intuizione della Regione Marche, che finalmente è riuscita a promuovere questo festival di valorizzazione di tutti i borghi marchigiani, e a far lavorare, come nel nostro caso, cioè di Cartoceto e Monbaroccio, dei comuni assieme, che per la pluralità a cui è abituata la Regione Marche, direi non è motivo di orgoglio secondario. E poi sicuramente tante saranno le iniziative che troveranno i turisti, i visitatori, ma ovviamente anche i residenti di queste zone che tengono particolarmente a ripercorrere un po' quello che è il percorso storico dei briganti e quindi della Banda Grossi, nelle tre giornate del 16, 17 e 18 di settembre, luoghi in cui imperversavano particolarmente i briganti, appunto la Banda Grossi, caratterizzando questi due nuclei storici, cioè quello di Monbaroccio, ma in modo particolare di Montegiano, per ciò che riguarda il Comune di Monbaroccio, e invece la frazione di Ripalta, che come vado dicendo ormai da anni, è parte integrante di quello che è il sistema di valorizzazione e di promozione turistica di questo territorio per ciò che riguarda il Comune di Cartoceto. Ed ora vi mostriamo queste foto che ci sono state inviate poco fa da una telespettatrice per segnalarci un incidente stradale che è avvenuto nel tardo pomeriggio intorno alle 17 e 30 alla rotatoria al termine di Via Vincenzo Rossi. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, lo scontro sarebbe avvenuto tra un'automobile e una bicicletta, a bordo della quale viaggiava una signora che è stata poi soccorsa dall'ambulanza. Nel caso ci fossero aggiornamenti di rilievo, in merito vi terremo aggiornati nei nostri spazi di informazione. Dopo il successo della prima edizione del 2019, il Cantiere Rossini apre nuovamente le sue porte per il secondo Cantiere Rossini Open Day, un'occasione per visitare e conoscere la giovane realtà cantieristica di Pesaro, un player internazionale nel mondo del refit dei grandi yacht. Il Cantiere, situato in strada tra i due porti 48, sarà aperto al pubblico sabato 18 settembre dalle ore 9 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30. Necessaria la prenotazione sul sito cantiererossini.com e il possesso di Green Pass. Nel pomeriggio inoltre ci sarà l'inaugurazione dei due capannoni del Cantiere Rossini per la verniciatura degli yacht. Siterà domani alle 12 presso la sede della Onlus Gulliver in Via Toscana 111 la presentazione del nuovo bando del servizio civile regionale. 30 posti a disposizione per prestare servizio presso l'associazione con 12 mesi di esperienza destinati a ragazzi dai 18 ai 28 anni che non lavorano e non studiano. E distribuiti in 25 ore settimanali con un compenso di 450 euro mensili. Un'esperienza per far comprendere la bellezza dell'impegno sociale in città e di cui vi daremo maggiori informazioni nel telegiornale di domani. Si è conclusa sabato 11 settembre la prima edizione del Sun by Outdoor Festival il festival del benessere e dello sport all'aria aperta con protagonista il parco regionale del San Bartolo. Dal 4 all'11 settembre il territorio del parco ha ospitato un programma di attività molto vario e per diversi livelli di difficoltà. Il festival è nato dall'idea di valorizzare questo patrimonio ambientale e paesaggistico e la maggior parte degli iscritti provenienti da altre città ha scelto di trascorrere qualche giorno a Gabicce Mare facendo della propria passione un'occasione di vacanza. Questa mattina il sindaco Matteo Ricci e l'assessore all'attività economica Francesca Frenquellucci hanno consegnato un riconoscimento alla famiglia Pezzolesi che da generazioni gestisce il bar della stazione di Pesaro. A loro il riconoscimento della città per il modo professionale con cui gestiscono la loro attività accolgono cittadini e persone di passaggio. E dopo un anno di stop a causa del Covid torna Tavuglia in moto con la sua settima edizione che si svolgerà dal 16 al 18 settembre in occasione del weekend di MotoGP di San Marino e della Riviera Romagnola un'edizione nel segno del divertimento dello spettacolo e della valorizzazione del territorio con un ricco programma che sentiamo in queste prossime interviste. Abbiamo preparato un programma molto bello vario e abbiamo ampliato anche la superficie dove si svolgerà la manifestazione per far sì che anche le norme sull'assembramento vengano rispettate in maniera migliore. Si comincia il giovedì il giovedì abbiamo un gran appuntamento con la mototerapia per questa iniziativa abbiamo coinvolto anche l'ANMIC di Pesaro l'associazione Invalidi che ci ha supportato e ci ha aiutato anche per divulgare tutte queste notizie. Oltre a quello avremo poi un collegamento con Misano con Valentino Rossi Franco Morbidelli e Luca Marini che faranno un saluto a questi ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa. Fine serata abbiamo un bello spettacolo diciamo di musica e sabbia sullo schermo in piazza abbiamo 200 posti a sedere per cui abbiamo pensato un po' a tutto anche e soprattutto di rispettare queste norme sul Covid. Il giorno successivo abbiamo due spettacoli di Vanni Odera in questo caso fa lo show e non con i ragazzi diciamo fa proprio uno show lui con il suo staff e alla sera ci sarà un concerto anni 70-80 con un concerto live con il Revolution di San Giovanni Mariano. Il giorno successivo si apre invece proprio l'iscrizione al motogiro questo lo facciamo in collaborazione con la terra dei piloti dei motori si parte alla mattina alle 8 e mezza cominciano le iscrizioni alle 9 e mezza si parte sosta a Urbino per il pranzo e si rientra alle 17-8 luglia quando poi inizieranno gli eventi del pomeriggio. Nel pomeriggio avremo esposizioni parate diciamo di moto d'epoca come il giorno precedente oltre a quelle di minimoto perché abbiamo a Tavuglio un gruppo di ragazzi di minimoto che sono una ventina che anche loro percorreranno le vie del paese. Si finirà con un bel concerto un tributo agli Abba. È un appuntamento molto importante il settimo anno quindi è una consuetudine che si rinnova ogni anno con sempre eventi nuovi quindi noi come terra dei piloti dei motori siamo molto molto soddisfatti e contenti di partecipare a questo evento che si ricorda appunto che la nostra regione la nostra provincia è la terra dei piloti dei motori quindi questo connubio poi che è stato è stato definito da Comune di Tavuglia con l'ANMIC per fare questa mototerapia ci riempie ancora di più di orgoglio perché il contributo che chiediamo andrà finalizzato anche a questa mototerapia quindi siamo doppiamente soddisfatti della partecipazione. Una settima edizione che coincide con l'anno in cui Valentino Rossi ha annunciato il ritiro ci potrebbe essere ancora più gente proprio per assistere diciamo a questa cosa che sa un po' di speciale. Sì, infatti sembra quasi che arriverà più gente del solito questo è un po' una percezione stando anche con il fan club le telefonate che hanno avuto loro noi dal comune quindi questo è possibile non dimentichiamoci però che ci sarà un altro Gran Premio a Misano che chiaramente è alle porti di Tavuglia e vedremo cosa succederà anche in quell'occasione però molti vorranno essere presenti proprio perché per tributare un saluto a Valentino. e ci saremo anche noi a Tavuglia in moto quindi seguite anche la prossima settimana la programmazione di Rossini TV continuiamo a parlare di eventi perché sempre in questo prossimo fine settimana stiamo parlando di venerdì 17 sabato 18 a Pesaro invece ci sarà la prima edizione di Fumetti Opera Festival due giorni di performance disegnate stand up e concerti per un nuovo modo di leggere una storia a Fumetti tanti gli ospiti che prenderanno parte a questo evento come sentiamo in queste prossime interviste L'idea è venuta spontanea quando l'anno scorso dovevamo organizzare il concerto di Quando tutto divento blu che è un fumetto che è diventato un disco che è diventato uno spettacolo siccome dovevamo fare questa data con Vimini con Amat ci siamo detti ma perché non ne facciamo due e proviamo a vedere e sperimentare un nuovo modo di parlare di fumetti diverso da quello delle fiere diverso da quello dei banchetti diverso da quello dei padiglioni diverso da quello dei cosplayer e siccome Pesaro poi è la città della musica il connubio è diventato subito immediato la cosa che mi interessava in questo festival che è ancora una versione beta perché devo dire la verità è anche per me la prima volta come direttore artistico e ci saranno un sacco di ospiti ci sarà lo spettacolo di Quando tutto divento blu ci sarà Davide Toffolo che presenta il suo libro nuovo con Rizzoli che si chiama L'ultimo vecchio sulla terra su Remo Remoti sulle poesie di Remo Remoti ci sarà Rachele Bastreghi Ilarioni Erskine abbiamo un altro ospite pesarese che ha fatto il suo primo libro al esordiente che si chiama Guido Brualdi ci sarà Nova che è un'autrice che ha un'anteprima qua con noi e Gian Joff e tante altre cose divertenti da vedere soltanto seduti con i popcorn come se fosse al cinema ci piaceva essendo diciamo Pesaro grazie a numerosi artisti anche un po' una crocevia nazionale internazionale di artisti e di creatività rivolta al fumetto diciamo fissare questa attività anche con un festival allora ragionando con Alessandro Baronciani che diciamo non è l'unico ma sicuramente uno dei più rappresentativi pesaresi anche sulla scena nazionale con cui negli anni abbiamo svolto sotto varie forme molti tipi di collaborazione perché non ripartire da un festival caratterizzarlo appunto sulla musica a partire dal gioco del fumetto opera festival andando a marcare appunto un settore che è quello del concerto disegnato del fumetto applicato alla musica e quindi questo diventa per ora una due giorni una due giorni che si terrà prevalentemente nei teatri appunto perché partiamo dall'idea di concerto ma anche per diciamo mettere anche una base per qualcosa anche di più importante che potrebbe diventare un appuntamento annuale venerdì 17 si parte alle 6 ai musei civici con una visita guidata alla mostra di Michael Bardeggia poi ci sarà lo spettacolo al teatro sperimentale e un dopo festival come tradizione dei festival ci sarà un dopo festival al Circo del Mangaroni con due presentazioni di fumetti letti dal vivo e sabato ci sarà una gita in tipografia perché è dove nascono i fumetti e la tipografia di Pesaro la nuova Montaccini spesso mi ha aiutato anche a me nella realizzazione dei miei libri poi ci sarà lo spettacolo di Davide Toffolo con in apertura lo spettacolo di Guido Brualdi e ci saranno anche le animazioni dell'associazione Alma Animatori e delle autoproduzioni anche qua al museo civico nel pomeriggio di sabato dopo un anno di stop causa pandemia il concorso Donna di Genio promosso da terziario donna di Confcommercio torna a premiare la creatività imprenditoriale al femminile sono quindi aperte le iscrizioni al concorso come ci spiega il presidente di terziario donna Patrizia Caimi intervistata da Daniele Sacchi il concorso riparte riparte con grande entusiasmo vogliamo che tutte le nostre imprenditrici anzi desideriamo che tutte le nostre imprenditrici le imprenditrici della nostra provincia iscritte a terziario donna e non perché è aperto veramente a tutte le imprenditrici questo concorso desideriamo appunto che partecipano con le loro idee innovative perché come ben sappiamo l'imprenditoria femminile è la più innovativa per cui sicuramente anche quest'anno usciranno tantissime idee vogliamo dare la possibilità certo il premio non è un gran premio però la visibilità sicuramente c'è su tutto il territorio e non solo a tutte le nostre imprenditrici che hanno delle idee originali e diverse il premio è relativamente giovane ma sono tante le donne imprenditrici non solo della provincia che vi hanno partecipato sì nel 2018 molte donne della nostra provincia hanno avuto questo premio tra l'altro vorrei ricordare Emanuele Arossi appunto di Rossini TV perché è grande imprenditrice ha avuto una bellissima idea e soprattutto il coraggio di portarla avanti perché non è una cosa semplice creare una televisione dal nulla e oltre a Emanuele Arossi vorrei ricordare Sara Muratori che si occupa di prodotti per le aziende la casa e quant'altro anche a queste a livello innovativo Stella Scarpa per l'estetica e non solo anche lei grande estetica innovativa e poi tante altre imprenditrici che adesso non sto a menzionare Adele Cerisoli è ristoratrice della Palomba di Mondavio nonché vicepresidente FIPE è stata una delle protagoniste di questi anni del premio che esperienza è stata? Sì è stato interessante è servito anche per metterci alla prova e trovare un'idea nuova in un'attività che è già da 35 anni in campo per cui è stato un motivo in più per trovare una novità noi abbiamo deciso nel nostro albergo e ristorante di inserire un punto vendita di prodotti tipici locali così per dare anche maggiore per valorizzare i prodotti specialmente delle aziende femminili quindi abbiamo portato nella nostra attività questo punto di prodotti specialmente di donne miele olio cioccolato per dare maggiore visibilità alle aziende femminili Il concorso naturalmente è solo una delle tantissime attività di terziario donna Certo terziario donna è presente da molti anni sul territorio e dà sostegno alle imprenditrici una cosa molto importante che facciamo come terziario donna è organizzare corsi per la crescita delle imprese e non solo diamo sostegno a tutte le imprese da tutti i punti di vista perché i nostri uffici sono a disposizione di tutte le imprenditrici iscritte per qualsiasi informazione poi adesso sappiamo bene che c'è questa fase di ricrescita anzi speriamo che ci sia questa fase di ricrescita notevole con dei grandi finanziamenti per cui vi invitiamo a informarvi presso i nostri uffici e presso terziario donna per capire come potete gestire la vostra attività al meglio oppure creare nuove attività e allora donne imprenditrici fatevi sentire partecipate a questo importante premio indetto appunto dalla Confcommercio di Pesaro Urbino e adesso invece andiamo a vedere la programmazione cosa c'è questa sera in prima serata alle 21.20 vi trasmettiamo questo documentario realizzato da Giorgio Ricci del Cine Videoclub Cesare Pandolfi di Pesaro che è dedicato a Gabriella Pandolfi che si definisce un'artigiana il documentario presenta un artista che spazia dalla pittura alla ceramica alla scultura utilizzando materiali impensabili le sue opere pensate sono presenti in tutto il mondo vi ricordiamo inoltre che a partire da lunedì torna anche l'edizione delle 19.40 del nostro telegiornale quindi da lunedì 20 settembre troverete Rossini News anche alle 19.40 e poi le consuete repliche vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione è gratuita potete farlo attraverso Google Play o App Store e per essere sempre chiaramente informati sulla programmazione di Rossini TV e su quello che accade nel vostro territorio finiamo qui questa edizione chiaramente vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa alle 7.20 buona serata grazie a tutti